Musica Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sul circuito di Austin in Texas per l'ultimo appuntamento di questa Precision 2024-2025 dalla camioneta di commento di Parla del Buono Simone Fracchiolla di Narte Sdem e questa sera in camioneta di commento con me abbiamo il due volte campione della Master League Jacopo Rochita, ciao Jay, buonasera Ciao Simone, buonasera a tutti e buona Precision E dunque siamo qui con i 12 piloti di questa sera che faranno parte della prossima stagione della campionata di 100% ovvero Pro o Master League dipenderà ovviamente da come si involverà questa gara si giocheranno ovviamente i posti, il posto per le due categorie su una pista che diciamo è impegnativa ma anche molto veloce soprattutto nel primo settore con un serpentone che si fa diciamo quasi in settima marcia quindi sarà veramente interessante capire ovviamente come si comporteranno i nostri piloti in questa pista qualifiche che sono iniziate diciamo da un paio di minuti, 10 minuti e mezzo alla fine di queste qualifiche con Vampyr che in questo momento è stato il primo a segnare il miglior tempo in uno 31 e 477 e poi dietro ci sono Kaisermatt e i sniper staccati di un secondo che diciamo che non è una grande qualifica per loro però comunque diciamo siamo ai primi tentativi caro Jay in questa qualifica sì sono i primi tentativi, i primi giri e ovviamente hanno avuto qualche giorno comunque per allenarsi per affinare un po' il setup una pista molto molto completa Simone nella quale troviamo parti veloci, parti lente, lunghi rettilini una pista dove trovare il setup non è molto molto facile però vediamo subito che Vampyr ha iniziato con il piede giusto un Vampyr che già nella prima gara di pre-season, quella che non abbiamo dimostrato due settimane fa si era comportato molto molto bene e si sta comportando bene proprio su questa vista un Vampyr che ha iniziato con il piede giusto su questo gioco e lo sta dimostrando con i tempi perché ha rifilato praticamente un secondo alla concorrenza dove troviamo comunque Kaisermatt che ha voglia di rifarsi dopo l'ultimo appuntamento e poi troviamo invece gente come Sniper Samu, Femi, Silopensky tutti i piloti che cercheranno più o meno di ritrovare un po' la quadra in un gioco che sembra molto semplice da un lato soprattutto per quanto riguarda magari seguire l'avversario ma molto complicato nel momento in cui devi portare la vettura al limite e quindi tanto lavoro da fare e questa se non sbaglio è l'ultima giornata di pre-season prima, diciamo, delle pubblicazioni prima dei compagni di squadra e poi delle varie categorie Eh sì, è l'ultimo round di queste pre-season poi ovviamente inizierà, mi sembra, tra un paio di settimane inizierà il campionato quindi penso i primi di novembre, forse anche prima, non lo so però comunque è l'ultimo round per decidere in quale categoria correranno questi piloti non solo questi di questa gara ma anche quelli che sono stati ovviamente le settimane scorse in pista, l'avevo visto in Cina Marco Cano, Over, Flaminio e altri piloti anche nuovi piloti come Spinx e questa sera vediamo anche Massi Demma come, diciamo, nuovo pilota nei nostri campionati fit e anche Zero Pastello che sono, diciamo, i nuovi acquisti del fit, possiamo dire così e gli auguriamo ovviamente una buona stagione intanto stiamo quadrando Kaisermatt, il campione della Pro dell'anno scorso che, diciamo, quest'anno lui sicuramente approverà forse in Master sicuro anche perché chi vince la Pro è matematicamente in Master League però non sta vivendo questo gioco alla grande anche perché, diciamo, è stato un po' criticato in questo nuovo capitolo in molti nella nostra community ma comunque sta girando e sembra ovviamente voler comunque dimostrare il suo grande potenziale con Matteo Geraci Sì, ha iniziato questo nuovo tentativo con circa 50 milesimi di vantaggio sul suo intermedio, una guida abbastanza tranquilla, pulita per il pilota che è questo Martin un Kaisermatt, sì, che diciamo ha vissuto questa presidione un po' a fase eterne perché comunque tutto sommato da Abu Dhabi si era completato abbastanza bene e si era dimostrato anche abbastanza veloce e poi però, per esempio, nell'appuntamento in Cina ha avuto grosse difficoltà, diciamo, nel tutto il weekend nel preparare il circuito cinese vediamo qua la prova per Austin, come ha detto la sua comunque importante per lui accumulare giri, accumulare esperienza cercare di capire cosa non va per poter migliorare la prestazione e ora vediamo come va a stampare Kaisermatt si migliora? Sì, ma ha sali 6 decimi ovviamente da Kaisermatt e da Vampyr che sono veramente tantissimi quindi diciamo che Vampyr ha comunque dimostrato di essere un pilota che va molto forte nel giro di qualifica e Kaisermatt intanto sta dimostrando comunque di poter essere comunque un pilota abbastanza bravo nella qualifica sicuramente si dovrà ancora allenare più che altro dovrà prendere ancora in mano bene il gioco forse magari durante la stagione vedremo tanti piloti allenarsi e questo ovviamente lo aiuterà tantissimo intanto vediamo anche che si dovrebbe essere lanciato anche dei sniper SAMU non so se è al giro Sì, sono un po' tutti nel giro il giro anche Vampyr che sta cercando di migliorare sul tempo il primo settore è andato sotto i 150.000 smine sul tempo un po' tutti i piloti stanno cercando di migliorarsi in questo passaggio vediamo se un po' tutti concluderanno il giro anche perché poi dopo c'è poco tempo per poter rientrare in box e cambiare gomma quindi devono prendere la decisione se chiudere questo giro e avvoltire l'ultimo oppure rientrare e provare un ultimo tentativo Adesso la Racing Boost Visa di The Sniper SAMU con un leggero controllo da parte del 18enne di questa... che quest'oggi veste i colori di questa vettura affronta adesso la chiocciola poi giù tutto per arrivare alla fine di questo settore Vampyr 39 addirittura sotto il 31 attenzione qui a SAMU è zero pastello intanto si è piazzato terzo Simone con 32-4 mentre sta in piazziamo si è ritirato credo che è andato a sbattere i boss ahiaiaia peccato peccato per SAMU che diciamo è in una buona posizione è quarto ma è un secondo e cinque davanti quindi diciamo che è molto molto distante intanto ha dato comunque un secondo alla P2 per non dire sempre un secondo e comunque si ha grande performance da parte di Vampyr che comunque continua ad essere un pilota veramente veramente velocissimo nel termine del giro secco sì soprattutto quest'anno sin da quando c'è stato il gioco che è uscito si è trovato subito bene e lo sta dimostrando soprattutto a diciamo a giro secco in questo momento uno dei più veloci in griglia e quindi lo sta dimostrando perché continuamente nelle varie sedi nella quale lui si presenta va sempre forte in qualifica e anche in gara comunque è migliorato parecchio tant'è che adesso è diventato uno dei papabili diciamo per qualcosa di serio anche per il campionato perché comunque ha velocità nel giro secco e riesce a stare costantemente nelle prime posizioni cosa che serve per poter magari battagliare al meglio per il titolo Kaiser Mat è un secondo ma penso che potrebbe comunque ancora chiudere un po' il gap ovviamente non credo ricucillo del tutto perché un secondo è veramente ampio buono però invece Zero Pastello 32-4 che si è messo davanti a Ricky Bizzo e Eppe dove loro sono tutti molto vicini tra di loro mi aspetto qualcosa sinceramente da Lupensky solamente in decima posizione 34-0 altro pilota in grande grande difficoltà dove ancora non si è trovato bene bene con il gioco eh beh sì diciamo che ce ne sono tanti piloti che non si sono trovati non si sono ancora trovati bene con questo nuovo capitolo e che probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo ma penso probabilmente durante l'arco della stagione tutti quanti magari riusciranno a migliorarsi e diciamo far vedere veramente il loro potenziale durante la stagione intanto dalla chat ci salutiamo tutti salutiamo il buon Flaminio che si è abbonato per altri 28 mesi quindi grazie mille Flaminio Flaminio reduci da un buonissimo GP di Cina sì sì assolutamente assolutamente e ripeto quello che ho detto settimana scorsa perdo le speranze di averlo come compagno di squadra che ci ha un po' sperato però purtroppo mi sa che saremo di nuovo rivali però vabbè già partito il totto compagno allora è così vabbè vedremo poi in futuro cosa succederà ci vorrà ancora un po' di tempo però vedremo intanto salutiamo anche il bond e sniper pensiamo che ci saluta dalla chat probabilmente dopo lo schianto ci è venuto a salutare eh sì esatto però comunque è quarto per il momento quindi non è tanto lontano dalla prima posizione cioè dal tempo sicuro però comunque dalla posizione no intanto no nel middle diciamo da da Kaiser Mat in giù sono molto molto vicini ovviamente quindi sta nel gruppo in questo momento stanno un po' nel gruppo comunque vedo che tutti i piloti si stanno lanciando il primo è stato l'Uni e poi successivamente l'Opensky quindi anche Kaiser Mat si è lanciato andiamo a vedere comunque l'Uni il buon Christian Marcon che adesso arriva sul rettilineo centrale anzi sul lungo rettilineo del del secondo settore DRS qua si potranno vedere tanti sorpassi con dalla staccata poi oh leggera scodata occhio alla trazione qui che è molto facile perderla adesso arriviamo qui alla chiocciola un punto molto delicato col gas si allarga molto bene poi per cercare un incrocio per uscire il più forte possibile adesso va a affrontare il grande curvone di destra e adesso la curva ceca qui è molto facile tagliare invece lui la fa molto molto bene arriva adesso sul traguardo ma è altissimo il tempo forse taglio no perché il tempo scorre non il taglio c'è stato eh sì c'è stato il taglio sta arrivando l'Upensky che è il secondo di quelli che stanno facendo il tempo e poi c'è Kaiser Mat anche lui che sta cercando di migliorare i suoi intermedi l'Upensky che non ha un grandissimo intermedi nella parte centrale in realtà ti dico anche che la batteria dell'Else è piena non la sta praticamente usando adesso arriva sul traguardo è molto alto 33 e 1 si mette nonno si migliora di 9.10 ma non ha utilizzato per niente la batteria quest'anno in qualifica bisogna ovviamente gestirla intanto Kaiser Mat anche lui taglia al traguardo si mette a meno di un secondo a più di un secondo da Vampyr quindi diciamo che non è si 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 è migliorato ma di poco ma un po' tutti stanno sbagliando sono curioso di vedere se Vampyr si sta migliorando e si che si sta migliorando un decimo sotto nella parte Pastello Pastello scusami l'abbiamo stavamo inquadrando per me lo sbiciato subito di nuovo più di lui l'ha persa praticamente la chiocciola ha perso intanto Vampyr si mette davanti 38 vabbè se era già messo davanti ha dato già un secondo e due veramente indiavolato Vampyr ma più che altro diciamo gli altri diciamo secondo me fanno loro fatica a fare il tempo perché Vampyr veramente si trova diciamo molto molto bene in questo nuovo capitolo bisogna capire anche se fanno fatica perché oggi c'è stata una pace se fanno fatica per quanto riguarda la gestione della potenza dell'Hers oppure no perché comunque c'è stato un aggiornamento per quanto riguarda l'Hers e quindi non vorrei che magari molti non hanno ancora ben capito come sfruttarla da oggi visto che obiettivamente c'è stato pochissimo tempo per capire un po' l'andamento l'unico che non ha subito variazione è stato Vampyr che ha dato un'eternità un avviso e potrebbe essere quell'avviso che potremmo vedere pure in gara perché un secondo in qualifica è vero che in Scias ci si può stare ma se dà lo strappo potrebbe già andarsene via subito e beh diciamo che Vampyr in mezzo abbiamo un bello spettacolo perché tutti molto vicini sì a parte a parte Vampyr e Kaisermatt che sembrano avere qualcosa in più il resto è bello bello competitivo per vedere una bella lotta in questa preseason l'ultima della stagione prima degli inizi del campionato eh sì eh sì sarà veramente interessante vedere i piloti come si comporteranno adesso in questo momento visto che ovviamente c'è la gara e come hai detto è molto facile stare in scia però però bisognerà vedere se riesci comunque a stare in scia perché diciamo che non non è semplice però vediamo per quanto riguarda l'Hers sì c'è stata questa modifica più che altro c'è stata questa correzione all'Hers perché diciamo eh prima della patch durava un po' di più c'era questo diciamo bug che l'Hers durava molto di più rispetto al normale quindi adesso diciamo l'hanno corretta e a quanto pare quindi bisogna gestirla molto molto bene soprattutto in qualifica perché è lì che devi stampare il tempo perché poi in gara diciamo lì è un po' meno difficile cioè è più semplice gestirlo dato che stai dietro al tuo compagno all'avversario col DRS quindi vai anche molto più piano rispetto alla qualifica e quindi è molto più semplice gestirlo lì che in qualifica vedremo adesso la scelta delle gomme io penso comunque che partiranno tutti con la media poi non lo so ma sì potrebbe essere una gomma potrebbe essere una gomma usata da più o meno tutti i piloti potrebbe esserci in realtà qualcuno che potrebbe optare l'hard per fare qualcosa di diverso visto che comunque precisano i test e comunque è giusto anche provare qualcosa di diverso ora onestamente non ho provato molto su questa pista anzi quasi per nulla quindi le strategie non credo di sapere precisamente quale ma per come è andato sono andati i primi due appuntamenti della pre-season e l'andamento del gioco credo che sarà quasi unicamente una sosta bisogna capire comunque le medie che ruolo avranno sulla gestione dell'usura perché comunque potrebbero avere dei cali come abbiamo visto negli altri GP e gestirla comunque non sarà semplice arrivare a un numero di giri necessario per poi montare la bianca e arrivare fino in fondo e dunque vanno adesso a fare il loro proprio giro di formazione andiamo a vedere diciamo un attimo il dettaglio delle gomme eccole qui e vediamo che sono tutti andati con le medie tranne long e l'unilong che diciamo ha già provato questa cosa con le hard in Cina non è che ha funzionato tanto però comunque sta di fatto che qua siamo in un'altra gara siamo in un'altra pista e quindi potrebbe essere una mossa che lo permetterà di farla arrivare un po' più in alto vedremo cosa si evolverà intanto tutti gli altri invece sono con guava media e vedremo ovviamente come si svolgerà questa pre-season quest'ultima gara di pre-season poi sono veramente curioso di vedere come sarà il campionato e soprattutto le strategie te sei un maestro qua parlando di strategie mi viene in mente ovviamente te ma bisogna un po' capire per quanto riguarda la gomma cioè perché ad esempio Long aveva detto ad esempio in Cina nel post-gare che si era trovato scusami quando l'ho sentito che si era trovato bene con la hard però quando aveva trovato la media non si era trovato e vedendo lui che comunque sta provando sempre a partire con la hard forse vuole capire il principio delle gomme proprio per cercare di trovare delle risposte nei quali magari lui in questo momento si è dato delle domande strategie in questo momento sembrano abbastanza semplici molto molto basiche molto calcolate la differenza sta nel consumo della gomma di come viene gestita la gomma soprattutto nelle varie fasi del gran premio e come arrivi a fine stilte quando magari vuoi fare un undercut o un overcut quindi ecco lì ci potrebbe essere la massima differenza tra i piloti come strategia una singola sosta sembra quella ideale e allora ci siamo i piloti che sono posizionati sulla griglia di partenza attendiamo soltanto che si vanno a posizionare gli ultimi in fondo allo schieramento Massi Demma squalificato errore quindi partirà un po' forse con la gomma fredda e allora ci siamo i piloti che sono pronti sullo schieramento e allora le luci che si vanno ad accendere una due tre quattro cinque e allo spegnimento il via di quest'ultimo round delle pre-season 2024-2025 partono le vetture ottimo di pastello infatti occhio là dietro che vedo delle vetture aprirsi a ventaglio e a quanto vedo c'è subito un po' di parapiglia mentre Vampyr prende la fuga prova a incominciare a dare un po' di strappo dietro attenzione qua al serpentello perché non si può fare a due vetture e infatti si mettono praticamente dietro ottima la partenza da parte di zero bastello che si è messo davanti anzi si è messo in terza posizione e adesso vediamo come svolverà un attimo questa gara intanto Vampyr ha già dato 6 decimi a Kaisermatt vediamo se adesso il pilota della Stomart riuscirà a tenere la posizione mentre dietro vedo una Williams dovrebbe essere quella di F che va addirittura a cercare il sorpasso su Hemis ma nulla da fare si mette soltanto davanti a Lopensky che sta facendo veramente una gran fatica adesso sul rettilino vediamo come si evolverà la situazione Lopensky va all'interno così come Samu che si può vedere nei confronti di zero pastello nulla da fare Lopensky stacca forte e si mette davanti di nuovo ad F ancora un po' di bagarre qua dietro mentre là davanti sembra essere tutto a posto con Kaisermatt che in questo momento rimane ancora un po' attaccato ai tubi di scarico di Vampyr lo deve fare se vuole trattenere il DRS si diciamo che il primo giro è quello nella quale puoi rischiare qualcosa in più per creare il buco nei confronti dei tuoi avversari però sembra questa non essere stata la tattica di Vampyr nel senso che è andato con il suo ritmo regolare Kaiser è riuscito a mantenere un po' più in difficoltà Zero Pastello che l'ho visto un po' in crisi con il rettotreno e deve cercare di rimanere nella zona di RS per avere vita un po' più facile in questo secondo giro davanti i primi due stanno cercando già la fuga dietro invece il gruppetto è tutto compatto un po' come nelle previsioni potremmo assistere a un duello per il terzo posto molto molto acceso perché i tempi erano molto vicini l'un con l'altro quindi sembra che i primi due possono andare via con invece un duello importante per il terzo posto anche se Vampyr in questo primo tratto ha veramente fatto il vuoto nei confronti di Kaiser perché rischia di andare fuori del DRS e ci è andato invece fuori Pastello che adesso non avrà la mobile per difendersi e arriva anche molto lungo qui al tornante e allora potrebbe essere preda facile per Samu che adesso prende la scia spalanca l'ala va all'interno nei confronti di Zero Pastello vediamo se prova a resistere il pilota McLaren nei confronti della Racing Bulls ma invece no si vuole infilare anche Ricky Vizzo poi desiste e alla fine Samu prende la terza posizione adesso va alla caccia del campione della Pro League 2023-2024 l'uno intanto prende 3 secondi adesso vediamo se riuscirà Samu a ricucire il distacco nei confronti di Kaiser ma che in questo momento ancora il DRS ma è veramente veramente al limite perché ricordiamo che poi Vampyr nel primo settore fa il vuoto mentre qua fa un po' fatica Kaiser ma adesso tenere il passo attenzione rischio sì diciamo che sta andando via sta andando via di passo che era quello che ci si aspettava perché più che altro con un secondo diritto in qualifica un po' di margine dovresti averlo in gara ovviamente Casmat sta andando tutto per tutto dietro si sono staccati con l'ass di Ricky Vizzo all'attacco di Pastello in ingresso curva 1 si agganciano con Pastello che rimane davanti però questo duello favorisce l'allontanamento di Samu che cerca di darsi leggermente la fuga nei confronti dei duellanti del suo inseguimento riesce comunque a tenere la posizione Pastello bravissima in difesa solo che forse un po' in difficoltà in questo momento in gara mentre Kaiser è ancora lì a 8 decimi e Samu sta facendo di tutto e di più per cercare di ricucire quel distacco nei confronti di Kaiser però non ce la fa ancora Pastello molto lungo qui al tornantino non so se è un problema di sottosterzo oppure di volante perché lo vedo che arriva molto molto lungo adesso però prende la scia di Samu vediamo se va subito all'attacco nei confronti di Samu e si si butta subito dentro al pilota del subuso può essere che più caldo errore errore di Samu scusami perché attenzione che si vuole buttare anche Ricky Vizzo Samu Ricky Vizzo Samu Ricky Vizzo mamma mia side by side qui oh mamma mia la stava per perdere Samu si inserisce anche Emis e quindi ne va a perdere tre posizioni il pilota della Racing Bulls peccato e adesso dovrà cercare di nuovo la rimonta peccato per Samu perché stava diciamo tenendo un ottimo passo poi purtroppo ha perso forse un po' di concentrazione e ha fatto passare diciamo non una bensì tre vetture che adesso diciamo saranno difficili da mantenere intanto Kaiser matto 36.8 si è vero col DRS ma comunque riesce a tenere il passo di Vampyr bravissimo e attenzione vediamo qui se Samu vuole ributtarsi dentro nei confronti di Emis ma si tuffa dentro con cattiveria mamma mia che staccatona e va arriva lunghissimo come il codice Ivan e attenzione perché si butta dentro anche Lopensky e ne perde un altro Samu incredibile veramente incredibile sta diciamo un po' perdendo un po' eh sì è zero passarello prende tre secondi che non sono buoni visto che ne deve fare cinquanta sedi giri già nel quarto giro prende tre secondi è una mannaia con Pastello che quasi si gira alla fine delle S sta dando tutto e anche qualcosa oltre al tutto il pilota della McLaren nel tentativo di mantenere un ritmo elevato rispetto a Ricky Pizzo che invece piano piano sta risalendo su nel suo ritmo e adesso può andare all'attacco prende la scia Ricky Pizzo va dentro così come va dentro anche Lopensky nei confronti di Hemis lo va a passare intanto Ricky si è messo davanti nei confronti di zero Pastello che prova attenzione all'incrocio l'incrocio l'incrocio contatto contatto con Ricky attenzione qui è la chiocciola bisogna stare veramente attenti a dare il gas qui perché se no la perdi molto facilmente attenzione Ricky rimane davanti e qui Pastello rimane dietro ha dato una mano Pastello ai suoi inseguitori perché avevano creato il gap nei confronti di Lopensky Hemis e Sniper ma con quel contatto praticamente ha fatto sì che Lopensky si ricongiungesse quindi prendesse anche il DRS quindi gruppo compatto dalla terza posizione in poi occhio perché indietro comunque c'è Long non molto distante con la gomma hard eh sì eh sì non è tanto lontano quindi più che altro poi ci avrà le gomme che gli andanno più forte quindi probabilmente potrà ricucire il distacco e forse magari anche cercare di guardare delle posizioni qui intanto siamo con Hemis che c'ha dietro un Samu che sta scalpitando lì dietro e dice come dire fammi passare Ricchibizzo sta andando via occhio eh Ricchibizzo sta andando via e Pastello sta praticamente rischiando anche con Lopensky veramente qua sono in quattro due McLaren con le due cugine Red Bull che sono veramente vicine e adesso arriviamo sul rettilineo con attenzione Samu che si fa solo vedere da un po' di fastidio nei confronti di Hemis e allora vediamo cosa c'è qui sul dritto vediamo quello che accade DRS per tutti per Pastello Lopensky Hemis e Samu 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 che deve cercare di studiare attacco prova addirittura qui ma non c'è spazio non si può fare deve stare molto calmo e dietro si è incodato anche F sta arrivando piano piano anche Long che però in questo momento ha due secondi e nove di distacco nei confronti della Williams di F mentre i primi stanno transitando sul traguando 37.3 per Vampyr ovviamente Kazimert lo segue a ruota Ricchibizzo da solo ha girato in 38.1 quindi circa otto decimi di passo tra i primi due e il resto del gruppo con Vampyr che non ha deciso di fare lo strappo deciso di partire abbastanza regolare Kazimert ha tenuto nei momenti difficili adesso sembra andare via regolare pure lui copiando anche le traiettorie cercando un po' di capire i punti di forza e i punti di debolezza del pilota Ferrari dove però vedo che nel primo settore a parte complice l'area sporca ma veramente vola il pilota che oggi guida la vettura di Maranello dietro invece la stessa cosa fa Ricchibizzo nei confronti di Zero Pastello oltre il secondo adesso Zero Pastello non avrà il DRS non ce l'aveva Emis fino un attimo fa poi per un errore diciamo probabilmente di Zero Pastello ha fatto sì che sia accodato il gruppetto forse di Lopensky che per evitare il contatto ha dovuto alzare il piede e adesso va l'attacco il pilota Red Bull e prova a mettersi davanti vediamo cosa succede sul fondo del rettilineo Lopensky si mette davanti vediamo se c'è anche la risposta da parte di Zero Pastello qui all'incrocio no decide di rimanere dietro quindi nulla da fare per il pilota della McLaren dietro invece c'è ancora un Samu 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 che pelo al posteriore di Emis ho visto l'anteriore baciare la ruota posteriore del pilota della McLaren nulla da fare sta scalpitando sta cercando un posto un pertugio ma fin quando il pilota davanti c'ha il DRS è difficile poi passare devi inventarti qualcosa in staccata se vuoi superare il pilota che c'ha anche lui di RS stavo notando invece anche i tempi di Lopensky per capire cosa potesse fare con il gruppetto davanti Richie Bizza ad esempio questo ultimo passaggio ha girato in 38.0 un po' come tutto il resto del gruppo Long con la Goumard in 39.1 Pastello di nuovo si replica l'attacco nei confronti di Lopensky si stanno divertendo qua Urca ho visto un Emis che ha praticamente inchiodato in curva 1 e Samu lo stava per andare a centrare e adesso il pilota McLaren fuori dal DRS ma attenzione a quello Snake attenzione a quello Snake perché ci sono Lopensky e Pastello che di solito sono un po' in difficoltà infatti Emis riesce un po' a ricucire di nuovo il distacco da loro e si rimette praticamente in zona DRS e adesso di nuovo si replica il duello mamma mia come è uscito forte Lopensky qui dall'alto l'abbiamo visto molto bene ci prova addirittura a farsi vedere ancora prima del DRS vediamo cosa succede adesso in questo lungo rettilineo il pilota Red Bull sta studiando e si riproverà a rimettere davanti con il DRS in mano sua adesso Pastello deve cercare di difendersi oppure lasciare spazio all'Aupensky intanto anche Samu dietro si prova a far vedere da Emis che però non vuole c'è della posizione Samu tira forte la staccata quella quella quasi a contatto vediamo adesso i due niente da fare Emis osso durissimo no mamma mia come lo stavo perdendo occhio qui sempre nello stesso punto eh si e non è facile lì e non è facile però attenzione perché Emis adesso è fuori dal DRS di Pastello quindi se Samu riesce adesso a ricucire il distacco nei confronti di Emis cosa che lo farà sicuramente infatti perché è molto vicino potrà funzionare il DRS forse anche qui però vediamo vediamo cosa succede perché più che altro più che altro se non ne sto vedendo molti che hanno problemi col posteriore sono molto rear limited anche Pastello ad esempio fa un primo tratto forte per il posteriore adesso ci riprova a buttarsi dentro l'incrocio ovviamente mamma mia che rischio e infatti ripassa Lopensky che adesso a strada libera e forse può riuscire può riuscire a ricucire da Ricky Bizzo Ricky Bizzo che sta tenendo un buonissimo ritmo comunque in terza posizione pochi errori guida pulita che ne prende sei di secondi e siamo a otto giri fatti quindi deve migliorare tanto la guida ma sto vedendo in controllo uno dietro l'altro in ogni curva è veramente al limite probabilmente sta andando oltre a quello che può fare il pilota della McLaren intanto dietro Samu si è sbarazzato di Emis che adesso può essere preda facile invece di F che può andare lui all'attacco sul rettilineo centrale invece ovviamente l'avanti Pastello si fa vedere nei combattiti di Lopez che si mette davanti e dietro c'è F che si tuffa all'interno poi Emis alla parte esterna vediamo adesso che c'era lui all'interno il pilota McLaren side by side da occhio qui alla chiocciola piano con il gas per evitare lo spinning arriva adesso larghissimo Emis per provare a uscire fortissimo dove è F eccolo lì all'esterno che poi diventa interno F ha fatto un capolavoro Jacopo si è messo davanti ha fatto un gran sorpasso ha fatto un gran sorpasso studiato per me Enric Vizio tre secondi anche per lui l'avevamo ancora citato ha fatto un gran sorpasso Emis è preparato benissimo ottima anche l'uscita del pilota Williams adesso deve spingere per chiudere il distacco davanti comunque si stanno dando battaglia giro dopo giro mentre i primi due stanno facendo gara lineare tranquilla all'inseguimento l'un con l'altro attenzione errori di Lopez qui in curva uno attenzione a Samu Samu e Lopez Samu e Lopez non si fa in due lo snake è vietato fare in due lo snake è vietato fare in due lo snake infatti Samu alza saggiamente il piede e lo rimane davanti perché Samu probabilmente che davanti Lopez non avrà il DRS e Samu invece si però qui vediamo se riuscirà a riuscirà a ricucere il distacco perché Pastello fa un po' di difficoltà ma anche Samu non scherza non scherza sul tratto guidato è molto veloce e non ha il DRS l'Opensky non ce l'ha Samu sta facendo un'ottima rimonta speriamo ovviamente che riesce a tenere la vettura in pista e non fare errori ovviamente come ha fatto nella chioccia adesso DRS per lui e andrà sicuramente al sorpasso facile e va dentro va dentro Samu nei confronti di Lopensky vediamo se tira la porta la staccata è piatta albun no alza il piede lo lascia passare e adesso Samu si è portato in quinta anzi virtuale quarta posizione perché davanti c'è Enrici Pizzo c'era Enrici Pizzo intanto Samu che ha di nuovo rischiato di perdere Lopensky dentro di nuovo alla chiocciola e vediamo qua vediamo qua vediamo qua vediamo qui che sono appaiati tutti e due non vogliono mollare tengono giù il piede tengono sul piede attenzione vediamo la curva qui alla cieca Samu arriva molto largo molto lungo e Lopensky ha preso tre secondi incredibile stanno stanno andando tutti leggermente oltre diciamo che stanno sfruttando tutto e oltre il tutto Lopensky ancora ancora Lopensky dentro all'attacco di Samu facilissimo il sorpasso nei confronti di Samu quindi si rimette di nuovo davanti gran battaglia gran duello qua dietro diciamo che stanno anche un po' perdendo perché Zero Bastello intanto se n'è andato si se n'è andato e Ricky Pizzo ha ricreato il gap anche su di lui quindi quando le maglie si allargano e vanno un po' diciamo per conto loro un po' di ritmo si creano si creano i buchi altrimenti succede che praticamente troviamo ogni volta anche Samu tre secondi eh sì ma questo è dovuto ai tanti duelli che hanno avuto e troviamo praticamente delle sporcature no? e quindi diciamo che ecco poi dopo lo paghi con uscita di pista e tre secondi la cosa che stavo notando intanto l'ennesimo sorpasso di Samu Sulopensky la cosa che stavo notando è errore ancora di Samu che non riesce a beccare bene la staccata e il posteriore completamente a farfalle un punto delicatissimo per lui quello guarda tanti tanti errori in quattro curve hanno perso da un secondo e sette sono oltre tre secondi eh sì ma anche perché anche le battaglie diciamo non aiutano quindi questo fa sì che comunque è zero pastello comunque se ne va è andato lungo F è sparito ho visto da Williams andare praticamente lunga si è girato invece Massi Demma in un punto alla tripla curva sinistra eh sì lo stiamo inquadrando in questo momento e comunque Jacopo io vedo un meteo un po' strano lo vedo si sta andando a nuvare non vorrei sì infatti questo potrebbe essere indice di qualcosa di diverso ma io sto notando anche un'altra cosa molto interessante che siamo passati ad esempio con Vampire il leader della classifica dal 36-9 fatto il primo giro al 38-0 dopo dieci passaggi intanto zero pastello se non sbaglio ha preso altri 3 secondi oh Samu scusami ancora battaglia incredibile tra loro due adesso vediamo chi c'era al DRS ce l'avrà sicuramente l'Opensky perché Samu si è messo davanti e allora vediamo vediamo cosa succede adesso sul dritto Samu va a coprire anche tutto l'interno però l'Opensky prende tutta la scia sì ma non ha al DRS non hanno al DRS probabilmente sono arrivati e arriva invece F che so oh mamma mia che attraverso Vietato fumare come diceva Guido Media mamma mia ancora qui mamma mia l'Opensky all'interno non vuole desistere Samu respira prende un po' di vantaggio e alla fine poi F ridendo e scherzando si prende la posizione l'Opensky mamma mia che controllo si è veramente veramente tosta allora io non riesco a capire ma probabilmente le gomme medie stanno facendo una fatica clamorosa perché Vampire sta girando in 38 e 4 significa praticamente girare un secondo e mezzo rispetto al suo miglior giro che è stato il secondo passaggio ne sono passati 12 la sensazione che potrebbe addirittura essere una gara a due soste a questo punto vedendo come la gomma media si sta comportando perché sta veramente avendo un calo di rendimento clamoroso e abbiamo ancora inquadrati i primi due e tre secondi e vabbè ragazzi abbiamo spizzato stanno soffrendo con le posteriori ovviamente Kaiser Mat dei due è quello che soffre di meno perché lo sta seguendo ma un calo evidente della gomma c'è stato e pure grosso è incredibile comunque è una cosa un po' un po' strana perché non abbiamo inquadrato i primi due per tutti questi 12 giri li abbiamo messi adesso e Vampire ha preso i tre secondi incredibile adesso non voglio non voglio è anche vero che è molto facile prendere tre secondi su questa pista che praticamente è tutto asfalto quindi fare il limite della pista è molto molto semplice Marco sta piovendo sta piovendo sta piovendo aia aia ecco perché almeno mi sembra scrive io ho visto la più l'ultima curva delle gocce però non so se era lo sporco alzato o delle gocce comunque qualcosa ci deve essere perché i tempi sono saliti su tantissimo l'ultimo passaggio 38 anzi in realtà l'ultimo passaggio è 38 e 4 è rimasto lì però diciamo c'è stato un calo repentino e o la gomma hard fa tutti gli altri giri ma ne deve fare 40 il che secondo me non è comunque ideale o secondo me a questo punto ci potrebbe essere la la possibilità l'idea di fare una doppia sosta chissà magari una doppia hard a questo punto per coprire bene bene la distanza perché questa gomma media sembra fare abbastanza fatica troppo non sappiamo ovviamente se piove o no però vediamo cosa ci userà intanto Kaisermatt diciamo è ancora pacca un po' nella qualifica il pilota di Aston Martin molto spesso ma per quanto riguarda passo gara c'è una costanza davvero incredibile che è anche molto pulita perché in questo momento non ha avvertimenti dietro c'è un po' di bagarre tra Lopensky ed F Lopensky che si è rimesso davanti nei confronti del pilota Williams e dicevo Kaisermatt diciamo pacca un po' chile in gara questo secondo me bisognerebbe farlo vedere si è girato pastello si è girato pastello allora Samu si è preso la quarta posizione e adesso andrà la caccia di Ricky Pizzo adesso ha fatto adesso ha fatto un tirone Vampyr girando in 37 e mezzo bisogna capire se questo tirone è fatto per l'uso della batteria sembra un po' di sì perché vedo che la batteria da piena è passata a metà in un colpo quindi ha tirato giù qualcosa adesso vediamo questo giro che è la cartina torna sole se effettivamente ha fatto un push poi un cooldown in questo momento e tutto questo va a favore di Long intanto fioccano i 3 secondi come se grandinassero praticamente gli unici che non ce l'hanno sono Kaisermatt e Emis tutti gli altri almeno 3 secondi intanto dalla chat Bonmax Basile ci scrive in questa pista la gomma è molto sensibile rispetto come la tratti se pattini all'uscita di curva poi sei sul sapone se la rispetti dura di più però diciamo è molto è molto real limited su questa pista diciamo che le posteriori sono giocano un ruolo determinante e generalmente devi concentrarti proprio sull'usura della gomma che ti fa fare quei giri in più che poi dopo ti aiutano anche a gestire meglio la situazione in questo momento si vede come Vampyr comunque rispetto a Matteo a Matteo Geraci comincia a faticare di più con le posteriori anche perché Matteo comunque l'ha seguito sempre non ha mai forzato ha dovuto sempre seguire il ritmo della Ferrari ancora un altro errore di Vampyr e questo giro ha rallentato ha girato in 39.9 addirittura questo giro pianissimo e guarda che Kaisermatt non attacca addirittura non ha aperto il DRS rimane lì perché dice non ha senso che mi metto davanti rimango qua dietro e diciamo gestisco tutto mentre Vampyr invece in questo momento sta veramente faticando in questo momento non in crisi ma quasi ecco perché comunque sta andando comunque forte però ovviamente la gomma dopo molti giri non la regge ma diciamo che se tu parti dal 36 come hanno fatto loro e finisci che in questo momento stai girando sul 38 addirittura il 39 ma è evidente che qua ha ricaricato la batteria comunque è sintomo che la gomma è usata tantissimo io addirittura comincerei a pensare veramente di fare un undercut perché qua l'undercut funziona alla grandissima con questa tipologia di usura di gomma l'undercut qua ha un valore clamoroso rispetto all'avversario tutta miseria cosa abbiamo visto questo è questo è l'indice comunque del posteriore che un po' se ne va mamma mia in un board con Kaiser ma te l'abbiamo visto era perso il secondo e adesso si vede adesso vediamo un po' come funziona la questione F intanto all'attacco su Lopenski qui al tornantino c'è anche Emis che fa lo spettatore 0 pastello diventano 9 mi sembra 12 scusatemi F è diventata che trasparente Lopenski mamma mia le stanno distruggendo le bombe stanno faticando stanno faticando come non mai e infatti guarda chi è arrivato è arrivato è arrivato long è arrivato long alla festa è arrivato long alla festa perché in questo momento qui è far west di solito si dice far west in pit lane e poi far west in pista e siamo ovviamente in una pista a tema siamo in Texas ad Austin ovviamente c'è sempre questa cosa vediamo un po' quello che succede adesso FS è preso davanti Lopenski insegue dietro ci sono le due McLaren che in questo momento addirittura Emis si prova a difendere nei confronti di 0 pastello che diciamo fa un po' fatica l'amino della chat ha scritto 0 pastello non è lento ma con i limiti della pista deve fare pratica e beh sì ovviamente diciamo i nuovi arrivati sono sono sempre alle prime armi quindi bisogna sempre allenarsi per avere diciamo un buon ritmo però comunque la velocità pastello non manca manca sì solo un po' di di pulizia nella guida vediamo un po' cosa succede adesso sul rettino perché lo pensi adesso è incalzato talmente tanto da Emis mentre Kaiser Matt è ritornato sotto il secondo lo sai lo sai nella sensazione che ho Simone è che non abbiano una doppia hard stanno tirando la media per poter fare o due soste con la seconda media ma non hanno una doppia hard perché se no avrebbero messo avrebbero messo due hard già da qualche giro vedendo i tempi come si sono alzati mamma mia qua dietro ragazzi miei ad avanti Kaiser Matt ripeto ripreso di RS mamma mia stanno spingendo 37.8 37.7 ma infatti non lo so perché io sto vedendo dei volanti la batteria la batteria di vampire diciamo che dopo qualche giro di rilassare Lopensky Lopensky è il primo a fermarsi era inevitabile in questo momento la hard va molto di più si ferma Lopensky gialla doppia sosta con la hard nel finale emis intanto all'attacco nei coperti di f qua e parapilla adesso le due McLaren contro le due Williams attenzione duello inglese vediamo cosa succederà perché adesso siamo lo serpentone adesso sono in 4 non più in 5 là davanti ancora vampire che mette fuori il secondo Kaisermatt è sempre un tiro e molla 9 decimi adesso 8 decimi è sempre lì però concentriamoci qua dietro perché adesso c'è la long long attenzione che si vuole mica buttare qui no è impossibile devo aspettare gli arresti infatti aspetta al dritto ma ne ha talmente di più che basta un'accelerazione fatta bene già gli sta addosso una McLaren che attacca la Williams l'altra invece si deve difendere vediamo la davanti Emis andrà a scolpo facile probabilmente col drs mentre long continua a rimanere dietro eccola l'attacco contatto 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 attenzione qui adesso con F Pastello probabilmente che sono toccati fortunatamente non è successo nulla di grave e adesso sono le due Williams se di seguire le McLaren è un duello di squadra adesso è un duello di team ah si sostanzialmente si dove l'unico vero vincitore potrebbe essere long visto che c'è una gomma tranquilla tranquilla si ferma F0 Pastello che è andato praticamente a bussare il posteriore di F si fermano entrambi Samu ha messo la non lo vede la media anche lui doppia sosta guarda F mette la hard Pastello ha messo nella media aveva aveva gomma media lupensky ma guarda quanto avrà di vantaggio rispetto a questo gruppo si mamma mia è uscito tantissima attenzione perché Pastello è uscito incollatissimo nei confronti di F ha voluto addirittura attaccarlo però ragazzi c'è il distacco di lupensky nei confronti di F è abissale mentre ci prova adesso Pastello è gomma media contro gomma hard cioè questo giro qua ovviamente per F sarà difficile deve tenere dietro la gomma media di Pastello che però avrà anche il DRS quindi diciamo che quasi impossibile tenerlo dietro sicuramente deve stare attento a gestire bene questa gomma hard e poi vedere cosa fare 18 giri di 56 significa 38 giri ancora al termine potrebbe essere buono anche per i due oh contatto contatto scusami di Pastello franno troppo tardi sui confronti del posteriore di F fortunatamente nessuna a lavorare ma adesso ovviamente potrà attaccare addirittura prova all'esterno vediamo se riuscirà ad andare la sorpasso facile è molto facile il sorpasso da parte di Pastello nei confronti di F quindi sale in ottava posizione e adesso dovrà vedere se riuscirà a riguadagnare nei confronti di Lopensky che non ha preso una vita di più cioè è veramente incredibile l'undercut quanto è potente sì ovviamente stiamo parlando di una gomma media non di una gomma hard ma comunque l'undercut è stato potentissimo per quanto riguarda Lopensky long long intanto su Lopensky sì gomma hard che adesso si fa sentire nei confronti della media che è usata di Emis che non sembra non averne più e allora io spezzerei una lancia a Simone per l'equipizio comunque che sta facendo un ritmo regolare ovviamente ha preso 3 secondi ma sta sbagliando veramente poco e comunque piano piano si è costruito un gap e in questo momento sta girando molto molto bene e quindi ottima presenza del pilota cambio della guardia dopo 19 giri Kaisermatt si mette davanti a Vampyr e vediamo se io ho una sensazione è una snasata mia ma secondo me si è messo dietro per fermarsi prima eh sì 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 anche io anche io secondo me sì perché arrivati a questo punto crearsi il gap potrebbe essere determinante arriviamo adesso come posteriore il pilota dell'Aston Martin è muoio molto meglio vediamo un po' rimane fuori secondo me si è messo davanti anzi si è messo dietro proprio per magari recuperare magari battere a Iberda perché per il momento non ne aveva potrebbe intanto 0 pastello altri secondi sì possiamo che ne ha presi anche 6 in totale quindi vediamo un po' non so se c'è la squalifica ma è a rischissimo sia l'unico che 0 pastello perché sono a 15 secondi dopo 20 giri eh sì diciamo che non è facile poi l'abbiamo visto un po' troppo di pastello tranciare molte curve mentre Emis Emis si è girato box no box box eh sì ma ha perso un terreno pazzesco nei confronti di Don può essere sì 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 è perché Samu infatti ha preso la posizione e intanto pastello giro forte giro forte di pastello giro veloce 36.3 avete con gomma media nuova per darti un'idea 36.3 per pastello 38.9 kaisermatt due secondi e mezzo con il ritmo che però i primi due tenevano rispetto a tutto il gruppo stiamo parlando in questo momento di tre secondi di differenza tra gomma nuova e gomma usata errore nello snake da parte di Emis nel giro prima dice Marco Luconi quindi ce lo siamo persi eh purtroppo purtroppo è andata male per lui vediamo più che altro se riuscirà a recuperare un po' di di tempo però comunque vediamo adesso se i primi due si fermeranno kaisermatt sta facendo un ottimo giro si sta facendo un ottimo anche un po' di finte probabilmente dovrà fermarsi fino a cambiare idea 38.8 però cioè la gomma è andata è ovvio che adesso come adesso si sono messi nell'idea di poter fare una sosta perché 21 giri fai 2-3 giri in più e fai e fai una sosta quindi ti metti sulle armi e ci sta e ci sta da questo punto di vista stanno battagliando tra di loro però visto come è calata la gomma io non so se effettivamente una sosta in una gara regolare diciamo fosse la soluzione ideale e c'è anche da notare una cosa che va più purtroppo a 3 secondi e quindi kaisermatt è nettamente tranquillo intanto ancora pastello pastello sta girando 3 secondi più forte con gomma media media nuova contro media usata ripetiamo anche vediamo adesso sul diritto se Vampyr si mette davanti secondo me no perché lo vedo lampeggiare quindi credo che è in riserva usa solo il DRS proprio per stare incollato al pilota dell'Aston Martin stacca fortissimo bloccaggio la parte di kaisermatt che ha rischiato anche di perderla in frenata ehi lei ha 21 addirittura mamma mia mamma mia penso che è un record fra poco non so cosa succederà più che altro se ne prende altri però veramente sono troppi secondi di pastello e vediamo in questo momento se si fermeranno di nuovo i primi due oppure tireranno ancora qualche giro per avere diciamo la domanda mi senti potrebbe eccolo là infatti ma era inevitabile era praticamente inevitabile si ferma Diego De Caspare quindi si mette a provare adesso a fare l'undercut media allora no comard da lontano visto alla media sembrava una media invece no è hard quindi attenzione vediamo più che altro se se c'è pista libera perché se arriva Ricky Biss Ricky arriva però è molto lontano secondo me vediamo un po' attaglio l'ambientatore Vampir lì 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 e Vampir per davanti però c'è una fredda deve spingere adesso però deve spingere perché sa che questo giro è fondamentale nei confronti di Kaiser Matte è veramente fondamentale questo giro perché è l'unico modo per creare un buco e lo sta già facendo Vampir 18 secondi nei confronti di guarda 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 ancora la gomma non è un mezzo secondo la differenza di gomma è veramente ampia in questo momento e pensa che Ricky ha 20 secondi di ritardo nei confronti di Vampir e Kaiser adesso Vampir è a 17 e uscire praticamente davanti a Kaiser forse anche di 3 secondi sparo questa cosa no credo 2 secondi abbondanti tutti perché poi dopo devi considerare anche che Kaiser Matte deve cercare di scaldare la gomma mentre Vampir avrà una gomma molto più calda e sarà davanti bisogna capire di quanto perché era dietro circa di 6 decimi ovviamente Kaiser ha dato tutto questo giro però ha perso circa 2 secondi eh sì forse anche di più vediamo si è fermato adesso Matteo Geraci mamma mia in mezzo giro praticamente ha dato 3 secondi Vampir a Gricky Vizio incredibile gomma bianca anche per il campione della Pro di quest'anno parte e arriva Vampir che è lanciatissimo sul dritto Kaiser ma deve ancora togliere il limitatore lo toglie in questo momento arriva Vampir sparato circa 2 secondi avanti eh sì molto avanti e allora vediamo e adesso deve scaldare la gomma van Kaiser ma te vampir c'è una bella calda adesso deve tirare guarda 2 secondi e 2 considerando che era dietro circa mezzo seconda è circa 3 quasi 3 secondi a 3 secondi a 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 però è una gomma nuova è un taglio da gomma nuova non sei più abituato ad avere tutto quel grip e di colpo la macchina ha girato aiaiaiaiai questo fa male per Kaiser ma te che purtroppo va a darmi pari con Vampir allora deve cercare di ricucire il distacco non va più bene il fatto di rimanere dietro tranquilli adesso però comunque vediamo se riuscirà a ricucire il distacco oppure Vampir non è più Samu con la strategia che ha fatto ha già ripreso la strategia di long sostanzialmente si l'ha ripreso mamma mia in soli 5 giro e a 6 secondi di vantaggi sui Rikibizu Rikibizu che aveva un vantaggio di circa 7 secondi anzi un po' di meno su Sniper Samu ma Sniper in questo momento ha praticamente copiato la strategia tra virgolette di una sosta di una sosta di long e di Rikibizu eh ma il problema che se lo trova qui adesso sul guidato long praticamente piantato mentre Samu ovviamente ne ha molto di più e in 5 giri ha recuperato 7 secondi incredibili è vero che long è piantato ma long a sua volta sta guadagnando su Rikibizu che sta continuando Rikibizu prova proprio fare una sosta long si ferma e si si long si ferma e penso che long vada sulle due soste 23 giri con la hard e troppo bassi ok mi è un attimo sparita la grafica del gioco non so perché comunque adesso è tutto a posto e intanto long si si è fermato per montare gomma gialla ma ce la fa a fare 20 no 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 deve fare due soste allora farà rossa due gialle no no penso due gialle lui è partito con la bianca farà due gialle e intanto hai ancora 0 pastelle ragazzi 20 quanti sono 24 si eh ma sta rischiando troppo ecco ecco ritirato non so se non so se è ritirato per per squalifica perché ha preso penalità e subito è stato si è scantato si è scantato si è scantato no no non si è scantato il gioco che l'ha fermato ero su di lui ha preso penalità e poi subito eh si perché adesso adesso c'era la McLaren e quindi non 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 vorrei per le troppe penalità probabilmente si perché perché ha preso penalità e subito si è ritirato come se il gioco lo avesse squalificato perché è stato proprio una frazione di secondo vediamo allora Rikibizzo se continua continua Rikibizzo sta tirando queste gomme da 23 giri da 25 ormai 25 è vero fai 26 perché fra poco arriva anche il 26 è il problema che sta arrivando il sniper con una velocità tripla ovviamente la strategia con una sosta qua è difficile che paga è anche vero è anche vero che lui si fermerà e monterà la bianca cosa che dovrà fare poi Sniper Samu cioè sostanzialmente lui si fermerà prima e avrà un margine che può riguadagnare sul pilota dell'Alfa Tauri probabilmente sta aspettando che Sniper arrivi lì vicino e poi decide di fermarsi ma penso che lo farà a questo punto in questo passaggio perché 25 giri con questa gomma 30 giri l'hard la fa una gomma che sta finendo stare usulando ormai intanto dalla chat ha scritto il buon Zero Pastello ragazzi sono cotto purtroppo la mia prima gara senza traiettora mi sono ritirato da solo quindi ah ok diciamo ci sta ci sta ci sta ovviamente bisogna ovviamente fare un po' di pratica però secondo me comunque la la velocità non manca bisogna certo mamma mia la velocità c'è la velocità c'è ovviamente la pulizia quello si guadagna con esperienza piano piano diventa sempre più più puliti soprattutto allenandosi ovviamente giro dopo giro quando poi dopo ci sarà il calendario ci sarà gli allenamenti da fare per le piste si va ad affinare quelle che magari sono errori di traiettoria o diciamo mancanze dovute a inesperienza intanto giro dopo giro siamo recuperati nei confronti di righe che si ferma dopo 24 giri è l'unico pilota ad aver fatto più giri con questa gomma media e si ferma per sicuramente montare l'hard per arrivare fino in fondo a questo GP e vedremo lui lui anche le Kaiser si arriveranno fino in fondo gomma bianca per Ricky Bizzo che esce e vediamo dove esce arrivano le due Williams sparate con F che adesso è un po' diciamo adesso è lui quello che sta un po' rischiando visto che gli altri hanno gomma nuova e lui c'ha finita Long aveva 6 secondi di ritardo da Ricky Bizzo e gli sta davanti di quasi due in due giri eh ma adesso arriva adesso arriva Ricky e no no però per farti capire lui si è fermato due giri prima aveva 6 secondi di ritardo da Ricky Bizzo e sta davanti di due ha guadagnato 8 secondi in 3 giri ah comunque scusatemi era F che è stato sorpassato da Long scusatemi è un po' stato un po' errore mio però comunque diciamo sono tutti e tre con gomma nuova F soltanto 8 giri con la gomma hard e Long ovviamente con gomma media di 2 giri quindi ne ha molto di più poi ovviamente si sentiranno ovviamente i giri e perderà un po' di tempo e quindi staremo a vedere più che altro cosa c'è da intanto vediamo che Ricky adesso con la gomma hard si sta avvicinando su F che ha 8 giri e questa gomma hard non sono tanti però comunque si sente un po' la differenza tra gomma nuova e gomma di 8 giri attenzione ah ma l'abbiamo Simo l'abbiamo visto diciamo in questa prima parte di gara con la media cioè se dopo 12 giri si alza di un secondo e mezzo i tempi ci sta che la differenza sia ampia soprattutto nella gomma media sarà curioso vedere l'andamento della gomma hard perché nelle piste dove abbiamo fatto adesso la pre-season quindi sia ad Abu Dhabi che in Cina la gomma bianca si è praticamente dimostrata come se la gomma da gara per eccellenza costante sempre sullo stesso ritmo mai perdeva riprestazione potevi essere addirittura aggressivo diciamo che potevi farci quello che volevi vediamo se in una pista del genere nella quale abbiamo visto un grande dedicato del posteriore soprattutto su gomma media verrà di nuovo la luce e il fatto che la gomma hard invece rimanga una gomma stabile e che non abbia cali di nessun tipo sarà molto molto interessante e questo lo stiamo già valutando nei passi per esempio Diego Vampire in questo momento nei primi giri ha fatto 368 365 366 368 quindi diciamo una gomma che mantiene molto bene la costanza di rendimento e anche lo stesso Kaismat ha fatto 37.0 369 366 quindi diciamo ritmo regolare 364 adesso per Vampire quindi addirittura va a scendere e a migliorare ulteriormente il giro segno che è una gomma che in questo momento sta dando massimo delle garanzie stessa cosa vale per Kaismat 365 due stanno girando molto molto simile in questo momento il tattori ha preso F vediamo se lo andrà a superare in maniera molto veloce F arriva a lungo anche qui vediamo adesso col DRS se andrà all'attacco facilissimo e comprate il pilota Williams prende tutta tutta la scia vediamo si sposta all'interno Samu prende altri tre secondi diventano nove qua Ricchi un'esitazione per l'incrocio di territorio occhio perché F non le vuole sapere non le vuole mollare lì ancora giù il piede qua ragazzi alziamo il piede qua si deve alzare il piede per chi è dietro e adesso vediamo forse F si metterà dietro il codone di Ricchi e proverà a farsi trainare non lo so allora dipende perché se lo ripassa da una mano grossissima a tutti quelli che stanno davanti a Ricchi Bizzo che in questo momento importante per Ricchi è creare gap cercando di andare nettamente più forte degli altri perché poi dopo si dovrà difendere intanto vediamo che anche Emis ha preso la penalità in questo giro e quindi sono tutti con la penalità la prende anche l'uni tre secondi tutti tutti praticamente tutti quanti e va bene comunque diciamo che è una precision non è il campionato quindi però diciamo che diciamo fa come posso dire umore positivo se si riesce ad arrivare senza penna il test e si fa un attimo risultato qui comunque davanti il ritmo folle adesso di Vampire sta scendendo 36 e 2 36 e 2 è veramente un ritmo molto molto veloce 36 e 9 per Kaiser Matt è long invece molto vicino a Lopesky e lo va a passare lo va a passare vediamo se Lopesky prova a rispondere ovviamente no bloccaggio la parte di long è arrischiato però si si punto posteriore completamente bloccato eh attenzione vediamo adesso se Lopesky rimane incollato a long però mi pare un po' difficilotto 5 giri di differenza anzi 6 anzi 7 in matematica sono un asico comunque vabbè long comunque lunga adesso vediamo col DRS Lopesky si rimane incollato ha dato praticamente mezzo più di mezzo secondo avrà il DRS ma poi nel tratto guidato Lopesky praticamente non vedrà più il posteriore di long long che sta andando un secondo più forte di Sniper Samu e la cosa interessante è vedere i tempi di Rikibizu che ha fatto 37.0 contro 38.2 del pilota della Racing Bulls e quindi sta accumulando quel gap e sarà molto interessante perché comunque io credo che Sniper Samu avrà l'incirca eh deve tirare avanti ancora sta gomma per circa 6 giri o 6-7 giri e quindi potrebbe perdere ulteriore distacco dalle pilota della Haas che in questo momento è il pretendente serio per il terzo posto finale di questa gara di Preciso e long non si deve più fermare attenzione no no si deve fermare ah si deve fermare ah sì sì è impossibile sì sì infatti no stavo facendo un ragionamento strano perché Samu ovviamente si dovrà rifermare e long però aveva messo la hard però aveva tirato troppi pochi giri con la hard quindi pensavo che magari si potesse riuscire ad agire il traguardo con questa gomma però in questo momento si allunga un po' le distanze si allunga il distacco tra lui e Lopenski del resto di un secondo e due e con Righi Vizzo che piano piano sta di nuovo ricucendo il distacco ed è Righi quello che sicuramente non si fermerà più in questi in questo gruppetto è l'unico che sicuramente del gruppetto per il terzo posto che non si ferma davanti invece riflettendo un po' sull'andamento del passo adesso che sono distanti Vampia sta dimostrando il gap che aveva accumulato comunque qualifica aveva qualcosa in più rispetto a Kaiser ma la cosa che però mi fa riflettere è che il pilota il campione della proliga della scorsa stagione soffra un filo di più questa gomma bianca perché anche nel GP di Abu Dhabi ha avuto la stessa problematica che con la media andava molto bene con la gomma più morbida andava molto bene mentre con la gomma un pelo più dura faceva più fatica a prendere il ritmo o quantomeno magari riusciva a fare dei giri buoni ma poi dopo c'erano degli altri passaggi dove un po' si perdeva nel senso che non riusciva a trovare la performance della gomma e se non può ricapitare questa cosa in questa prima fase distinta attenzione però perché comunque c'è sempre il fattore posteriore che potrebbe essere diciamo la mina vagante di questi lunghi 30 giri che dovranno fare per chiudere il GP e se la gomma hard si rivela anch'essa problematica dal punto di vista gestionale potrebbe riservarci delle sorprese ricchi 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 ragazzi attenzione a ricchi pizzo che 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 cosa sta facendo cosa stai facendo stiamo calmi qua sullo snake stiamo calmi perché non è il punto giusto da fare il sorpasso bisogna aspettare il rettilineo centrale con il DRS e superarlo talmente ne ha talmente ne ha di più che giustamente vuole passare prima perché più guadagno meglio è però deve anche cercare di farlo il più safe possibile sì anche perché diciamo non ha senso subito però comunque c'è anche una gomma che va nettamente più forte di tutti gli altri anche forse di long vediamo adesso si è pareggiato già con quello di long si no forse probabilmente c'era un po' di più lui rispetto a long non lo so e poi vediamo però in tanto momento ricchi va all'attacco di Lopensky e va adesso all'inseguimento di Andrea Longagnali con la Williams vediamo se adesso in questo giro gli guadagnerà qualcosa adesso distacco di due secondi e mezzo con Ezio che anche lui prende altri tre secondi e vediamo adesso due sette due sei vediamo il prossimo passaggio come sarà il distacco tra la ass di Ricky e la Williams di long tanto Snampia Samu 38 e 5 37 e 3 per long arriva Ricky Bizzo che fa 37 e 3 con sorpasso quindi sta girando uguale a long ma guadagna un secondo e due nel confronto di Sniper Samu che può cominciare già a pensarci a mettere una gomma più fresca però giustamente cerca di tirare avanti anche perché più gomma è fresca più dopo hai modo di poter cercare un rientro se ti fermi molto vicino al pilota in cui sei fermato qualche giro prima il gap da poter recuperare è molto molto meno adesso vediamo un po' se si fermerà Samu oppure tirerà intanto ancora maniera già nel primo settore che non c'è Messi Demma Manufacture Massim Demma si è girato in uscita di curva 1 Vampir 3 secondi ai 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 questo cambia tutto di nuovo per Kaiser Mat 4 secondi e 2 3 sono sufficienti ma adesso bisogna vedere se riesce a reggere intanto quello che sta leggendo E Lopenski che continua a tenere Il codone di Ricky Pizzo Che non ha guadagnato nei confronti di Long Anzi ha perso Ha perso due decimi e mezzo Adesso diventano addirittura tre secondi È incredibile O è Long che sta spingendo Oppure Ricky ha fatto un errore perché è incredibile Come Lopenski sia riuscito a rimanere Nel codone di Ricky C'è anche l'idea del fatto che comunque Long si deve fermare e Ricky deve tirarla avanti Anche sì Sempre parlando Sempre parlando di gestione Long ha fatto un bel giro Perché 36-9 davanti Sniper ha fatto 39-0 Quindi è una gomma che sta cedendo Drasticamente Ricky Pizzo ha fatto 37-2 Ora Long su Ricky Pizzo deve guadagnare È vero che avrà una gomma media nuova Però dovrà guadagnare praticamente un pit Siamo 20 secondi quasi Non è facile Non è affatto facile Però 20 secondi e soprattutto Deve comunque tirare avanti questa gomma Almeno Deve farne ancora 7 di giri Volevo intanto fare un recap delle penalità Perché mi sono un attimo perso Quindi andiamo a vedere un attimo Abbiamo Bampyr 6 secondi Kaiser Matta 3 Slamu a 9 Long a 3 secondi Fini ovviamente a Massi Demma E poi 24 secondi per l'unica Anche lui sta rischiando la squalifica E poi Ezio a 9 secondi Quindi diciamo che le penalità Quindi sono Sono cadute come Come la pioggia Quindi Vediamo adesso Nel Nel traguardo Allora davanti Davanti Simo I primi due girano uguali Girano uguali La gomma non cede Per ora 36.7 Dopo 12 passaggi Sempre molto molto costante Ha ceduto completamente La gomma media di Sniper Samu Che è costretto a rientrare Sta facendo proprio fatica A rimanere dentro Alla pista Il pilota da Racing Bus Che va a marchio ora Permette Gomar Gomar Di 22 giri Che gli andrà a fare Senza problemi Lo Sniper Samu Rossa Oh No Credo che ha sbagliato Selezionale Non ci credo mai Che Era la strategia Che voleva Porca mia Era peccato Lopensky A hard invece Si era fermato Uno dei primissimi A fermarsi A mettere un'altra media Adesso ha messo la hard E va fino in fondo Lui si Si Dentro anche lui Hard Peccato Peccato 3 secondi per l'uni Altri 27 secondi Di penalità Per questa Mark Incredibile Sono davvero tanti ragazzi Eh ma Era preventivabile Una pista del genere Dove Praticamente Il rischio è pari a zero Dove Bumper Quasi non esistono Molto molto piatto Molto facile Commettere questi tagli Long Nell'ultimo passaggio Ha fatto 37 1 E Ricky Vizio Invece Giusto per rimanere un po' a tema Ha fatto il suo migliore Il giro personale Il giro personale in 36 e 7 Che è lo stesso tempo di Vampire e di Kaiser Ma ha ovviamente gomma molto più fresca Ma questo denota comunque un buon ritmo del pilota Che sta sorprendendo E credo che Comunque per chi ci guarda È un ottimo segnale Perché Dimostra grande grande competitività Ovviamente anneso Della lobby in questione Ma comunque Non sta girando male Anzi Sta girando molto bene Anche perché ha ricordato Nei confronti di Di Long Mentre il box è affermato Non lo siamo Quindi sicuramente ha sbagliato la gomma Vediamo un po' cosa succede Se gli metteranno la gomma giusta I meccanici O gli metteranno in un'altra rossa nuova Vediamo un po' Hard adesso Sì Secondo me O ha sbagliato Oppure sono da licenziare i meccanici Credo Credo che ci sia stato il problema di Eh sì Mi si è dimenticato di selezionare la gomma Perché probabilmente può essere anche che il gioco Non gli abbia subito messo la gomma hard E avesse una strategia diversa Sì Però intanto riguardiamo È una precision Sam comunque ha dimostrato Di essere comunque un pilota Dalla Dalla 100 Quindi Sì 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 Ma comunque La sua prestazione è molto molto buona A di là dell'errore Sbampir costantissimo È 36,7 Ma intanto Ricchi Scusami Ricchi intanto ha recuperato Si è messo sotto il DRS Stava anche andato a prendere Eh sì 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 vampire come dicevi Si sta diciamo di nuovo riprendendo Sta cercando di rimettere fuori Almeno No no È già davanti Sì sì È già davanti Scusatemi Veramente Non ci sto con la testa oggi Veramente E Vabbè Comunque invece per quanto riguarda Ricchi Ha ricucito il distacco Nel confronto di Long Ma sì Ovviamente si sapeva Perché ovviamente la gomma Adesso di Long comincia a cedere Mentre quella di Ricchi Invece continua Ad andare adesso A di là che adesso ha preso il DRS di Long L'ultimo passaggio per lui In 36,9 36,9 L'ha fatto Kaiser Ma per esempio In questo ultimo passaggio Il 36,7 L'ha fatto vampire Si sta trovando benissimo Con questa gomma hard Adesso deve solamente aspettare Per attaccare Long E poi Deve solamente gestire Perché il margino Ce l'ha Nel punto dei suoi insegnatori E Long È il suo avversario Il più tenibile Per Diciamo La rotta per il podio Deve fare per forza Una sosta Una gomma Che è già collata E deve cercare Di tenere avanti Ancora per Almeno 3,4 passaggi Mamma mia Quanto è vicino Possiamo dire anche Che se Ricchi Forse partito in una posizione Più Consciona Intanto è passato Davanti ad Long No Credo che sarebbe rimasto lì Ovviamente Il distacco Che sta prendendo Diciamo È quello più veritiero Però Però comunque Secondo me Poteva anche tenere Il passo Dei primi due Forse No No Non ha avuto Quel ritmo La dei primi due Però Se devo guardare In base Alla Suo ritmo di gara E alla sua condotta Di gara Occhio Perché potrebbe essere Una stagione Per lui Molto 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 Interessante Se viene messo Nella categoria Pro Perché Comunque Sta dimostrando Una velocità E una costanza Che Attenzione È anche Una gestione Della gomma Perché ha fatto Comunque 24 giri Con la media Ad un ritmo Molto Molto Accettabile Se paragoniamo A tutti quelli Che aveva attorno A lui Perché anche Lo stesso Long Per esempio Si è fermato Prima Con la gomma Hard Ha messo La gomma Media È vero L'ha passato Ma adesso Gli sta dietro Con la differenza Che Ricky Tira fino in fondo Long Si deve fermare Eh sì Assolutamente Anche Emis Vai Box Molta La gomma gialla Per arrivare Fin in fondo E passa Anche Di sniper Siamo che Prende la settima Posizione E sì Diciamo Che Comunque Ricky Sta Diciamo Facendo vedere Un grande passo Così come Comunque Long Continua A tenere Il passo Vediamo un po' Se rimarra Nel codone Di Ricky Per ancora Un paio Di giro Oppure Solo Questo giro Solo Dove è andato Dove è andato Mamma mia Purtroppo La coma Non lo può Sostenere In questo momento La differenza È Importante Infatti Anche Come sta guidando Ricky Denota La grande In questo momento Fiducia Che ha Nei propri mezzi Nelle scelte E nel ritmo Che può avere Nel polso Poi come davanti Vampyr Che Da quando Ha deciso Di fermarsi Prima Creare il gap Lo sta aumentando Girando in maniera Costante Una gomma Hard Che Come Voleva Si dimostrare È un'altra Volta Una gomma Nettamente Superiore Rispetto Alle altre Due mescole Permette Di fare Giri Molto Costanti Siamo Arrivati A 16 E è rimasto Sempre Sul 37 Quindi È una gomma Che Prestazionalmente Va Molto Molto Bene Adetora Allo Scaricare Della Benzina Rimarrà Tale Ancora È Fintanto Tre Secondi La Magari L'unico Rammarico Sarebbe Stato Capire Tra i due Sì La strategia A due Soste Andava Meglio Rispetto A una Sosta Perché Potenzialmente Secondo me A rigore Di logica Le due Soste Con quella Media Lì Era Superiore Rispetto A La Sosta Singola Premore Stando Che Secondo Me Le due Soste Andavano Fatte Con Goma Hard Perché La Goma Media Per fare Due Stint Troppo Debole Mentre Agumar Magari Va Un filo Meglio Adesso Comunque Long Fa Molta Fatica Adesso Arrivato Molto Lungo Alla Staccata Ha perso Praticamente 3 10 Minuscita E Appela Ancora Col DRS Però Comunque La Sostente Luni 3 Secondi Ancora Mamma mia Ragazzi Sono 30 Sì 30 Secondi Incredibile Passerebbe Anche Davanti Ezio Non so Se ci È Diciamo Il buon Marco Lucconi Qui Se si Ricorda Ovviamente Se c'è Stato Mai Un Puglota Che ha Avuto 30 Io Mi Ricordo 27 Ma Non So 30 Purtroppo Dobbiamo Andare A retroso Ma Molto A retroso Per Capire Ovviamente Chi Ha Preso Tanti Secondi Penelità In Una Gara E Soprattutto Poi Che È Una 100% Ci Sono Stati Anche Degli Squalificati Scrive Il buon Lucconi Quindi Diciamo Che Sì Mi Ricordo Degli Squalificati Ma Andavano Sempre Tipo Oltre A 27 Secondi No Cioè Io Mi Ricordo 27 Secondi E Poi Squalifica Non Mi Ricordo Mai Un 30 Cioè Almeno 60 Secondi Magari No Adesso Non Esageriamo Però Comunque Incredibile 30 Secondi In Una Pista Incredibile Poi Non Hanno Ancora Capito Bene Il Gioco Non Si Stanno Trovando Molto Bene E Probabilmente Il Cap Era 27 Secondi Quindi Forse Il record Intanto L'ho Peschi Che va L'attacco Di Amis Un Dritto E Quindi Probabilmente Erano 27 Secondi Il record Di Penalità Presi In Pista Forse Forse Sì Ma Adesso Speriamo No E' interessante Comunque Perché Sarebbe Una Prima Volta Ritornando Invece Un po Sul Ritmo No Perché Adesso Tutti I piloti Dopo Una Prima Parte Abbastanza Scoppiettante Adesso Tutti Stanno Facendo Un Po Il Ritmo Non Mi Sta Comunque Tenendo Bene Dopo Sto Passo Che Ha Avuto Ecco E' Arrivato Il Punto Che Secondo Me Potrebbe Fermare Sia Perché 16 Giri Fatti Con La Media 16 Giri Mancano Al Termine Potrebbe Essere L'ideale Salmo 3 Secondi Ventano 12 Per Lui Indietro Sembra Anche Distante Da F E F C'ha Una Gomba Media Arrivano Praticamente A Peccato Più che Altro Per La Sosta Perché Secondo Me Poteva Anche Giocarsi Terzo Posto Secondo Me Nonostante Un avvio Un po Caotico Poi Poi Alla Avrebbe Potuto Cercare Di Portarsi A casa Un grande Risultato Qui E Vedere La Sua Prima Esperienza Al 100% Per De Sniper Sniper Samu Che Ricordiamo Ha esordito Qui Nei nostri Campionati Fita Nel 2021 Nelle ultime Tre gare In Prime League Poi E' stato messo In sport Per due anni E quest'anno Potrà essere Il suo primo anno Al 100% Che l'aveva anche Detto Che Sarebbe Trovato Meglio Con la 100 Anzi Con il 50 Intanto Ecco Long Che ti ascolta E si ferma I box Mentre Emis E' andata All'attacco Di Samu Sì Samu Sì Uh Mamma mia Mamma mia La stavo a perdere Tanto Long Si è fermata Andiamo a vedere La gomma Che forse Magari Prova un azzardo La rossa No Va di gialla Tranquilla No Sì Sì Se la media Riesce a far A stento 15 giri La rossa Probabilmente Ne fa tre Arriva Lopensky Che lo scavalca Ma poi sarà anche Per da facile Arriva anche Emis 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 Mamma mia Ha tagliato la strada Mamma mia Che rischio Adesso con gomma più forte Arriverà E lo supererà Senza problemi Emis ha 21 giri Con questa gomma hard E' veramente Una preda Non facile Di più Per Andrea Longagliani Che adesso sta arrivando Sullo Snake Se lo ritrova praticamente Nel punto più Diciamo Rognoso Per cercare di sbarazzarsi Il prima possibile Dell'avversario E adesso però C'è il DRS Sul lungo rettilineo Sarà veramente Facile Facile Il sorpasso Vediamo se ci prova subito No Prende ovviamente La distanza La rincorsa E poi via Giù tutto l'ersa Addirittura ancora Prima di aprire il DRS Quanta ne ha La gomma nuova Rispetto a una gomma usata Di tantissimi giri Veramente E' tutta un'altra gomma Tutto Sì ovviamente Ma soprattutto Sto vedendo davanti Il partito Il tira e molla Tra Vampire e Kaisermatt Perché Vampire in questo ultimo passaggio Ha fatto 37-0 Kaisermatt ha fatto Praticamente sul mio giro 36 e mezzo Anzi sul mio giro È stato quello precedente Ha fatto un altro 36 e mezzo Con un altro mezzo secondo E adesso Sembra Kaisermatt In questo momento Avere più ritmo Però Si stanno Pingendo l'un po' l'altro Mancano 14 giri E sono passati già 20 giri Con questa mescola Vediamo un po' Cosa succede Andando avanti Ovviamente Ormai Questo è diventato più Una lotta di nervi Non devono sbagliare Per non prendere Seconda di planetà Perché Gioca molto Ovviamente Sui tagli E' più che altro Non deve prendere la Vampire Perché se la prende Vampire Sono Problemi Perché poi Kaisermatt È sotto ovviamente Secondi Quindi può tranquillamente Arrivare davanti Però In questo momento La Ferrari Sta continuando a tirare 44 Cioè 4 e 6 Gli stacco Nei confronti Di Kaisermatt Si c'è un po' Un tiro e molla Che comunque C'è ogni tanto Che Kaisermatt guadagna Adesso 4 e 4 Nei confronti Di Vampire E Quindi Staremo a vedere Intanto F 5 e 6 6 Praticamente Stesso tempo Ha risposto Vampire A Kaisermatt Però Diciamo che Kaisermatt È un filo più Regolare In questa fase Di vada E intanto Sta arrivando Long Nei confronti Di Lopensky Con la gomma media Più fresca Ui E santo Mamma mia Cosa l'ho visto fare Ancora Un leggero Traversa Se strapassa Così la gomma media La vedo dura Per long Io non credo Che ce la possa fare Non voglio parlare Non voglio più parlare No Da Riki Non arriverà Da Riki Non arriverà Perché è molto distante Per l'andamento Della gomma media Non arriva No Non arriva per niente Cioè se Avesse messo La hard Adesso Ci avrei provato A fare un pensiero Perché ovviamente È gomma nuova Intanto fa anche Il giro veloce 35-1 Allora Se questa gomma media Guadagna due secondi a giro Lo va a prendere Il problema è che Non ha quel tipo Ehi è lungo 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 anche Le sta praticamente Strappando adesso Incredibile Questi errori sono Sono Da non fare In questo momento Perché ovviamente C'è una gomma Forte E devi cercare Di sfruttarla Sì Ma non così tanto Perché sennò Ovviamente La vai già subito A consumare E in questo giro Lungo doveva essere Già praticamente Nel posteriore Di Lopensky E non c'è ancora Perché è ancora Un secondo e7 Adesso Lopensky Ha fatto un errore E si è ricucito Il distacco Ma non ha ancora La possibilità Di utilizzare la mobile Lopensky Sta andando Veramente piano Adesso Attenzione Chiarese hanno preso Guarda Sì Sta andando piano Ma Relativamente Sta guadagnando Sta guadagnando Sempre Rispetto a A Ricky Ovviamente Guardando le gomme È long Che sta andando Molto Molto Più forte Ma è solo Questione In questo momento Di tempo Perché Dipende Il quanto Virrà Nei confronti Il pilota Redburg E rimane davanti Potrebbe essere Questa la vera Lotta Che potremmo Vedere Negli ultimi Giri Lotta Che invece Vediamo Tra i primi Due Perché stanno Girando Uguali Da almeno 3-4 passaggi Con Vampire Che dà lo strappo Keismat Non molla E sono sempre 4-4 4-3 4-2 4-5 Sempre lì Adesso è anche Lopensky Con Long Che è arrivato Adesso In questo giro E sarà Sorpasso facile Per Long Sul dritto Con Massi Demma E Lopensky Che prende 3 secondi Vabbè ragazzi Cioè Non voglio parlare Più Perché se no Qua finisce Veramente male Per ogni pilota Che nomino O che inquadriamo Però in questo momento Ricordiamo Una preseason Quindi Cerchiamo di Di non vedere Tanti tagli Nell'incampionato Attenzione All'Open Long Che sta spingendo Il posteriore Di Lopensky Incredibile Lo fa arrivare Lungo E lo passa Ok l'incrocio Vediamo se Chi c'ha il DRS Secondo me c'è la Long Sì infatti Ciao Sì perché era dietro E infatti Long col DRS Ringrazia Saluta E se ne prova A scappare Eh ma Deve cercare Di accumulare Gap Perché poi Dopo andrà A soffrire Con questa Gomma Media Non è proprio Detta L'ultima Parola Su questo Duello E Lopensky Deve cercare Di Di non perdere Il codone Adesso Con questa Gomarda Perché E' la gomma Da gara Ma adesso Long ne ha Molto di più Forse Ne riparleremo Tra tre giri Tre o quattro giri Vedremo un attimo Se Long ne avrà Ancora Oppure Lopensky Riuscirà Di nuovo A Ricucire Il distacco Adesso Sembra che sta Addirittura Dando un po' Tutto quello Che ha Lopensky Per rimanere Almeno sul DRS Ma non ce l'ha fatta Verso Pochi decimi Pochi millesimi Adesso Long Cerca di Allungare E' un Sì Diciamo Sì Lopensky Cerca di dare Tutto Perché Più si mantiene In scia E più ha più Possibilità Verso la fine Mentre Long Cerca di Andare via Ma non deve Strappare la gomma Davanti Invece I primi due 36.4 per Vampi Il 36.6 Keisermar Che comunque Gli dà veramente Poco respiro Al pilota Ferrari Nonostante comunque Stanno 4 secondi e 7 Ma sta cercando In ogni modo Di rimanere a contatto E stanno girando Un po' E' uguale anche In questo passaggio E questa è una bella Risposta Per Kaiser Che Era un po' Abbattuto Dopo La presidio Di Cina Diciamo Che questa risposta Soprattutto Fasso Peccato Ezio Mamma mia E' rotto pure L'ala Peccato per lui Che adesso Sta entrando un po' In pista Con le gomme sporche E si Diciamo che Kaiser Matt Diciamo Si allena molto spesso A pista libera Lui Quindi diciamo Che il passo a gara Non gli manca Gli manca un po' La qualifica Che quest'anno Ovviamente La deve cercare Di trovare Soprattutto In questo capitolo Perché Si parla ovviamente Di un futuro In master Quindi Vedremo ovviamente Che cosa Riuscirà a fare Sempre Ezio Intanto Ancora Ezio Che si gira Si E E dicevo Sarà interessante Vederlo Perché ovviamente In gara Ovviamente Ne avrà Il problema Però È che Se riuscisse A sistemare La qualifica Ancora Qualcosina Ma proprio Qualcosina In gara Secondo me Sarebbe Perfetto Per Riuscire a fare Una buona stagione In Categoria Regina Abbiamo un triello Intanto Per La Sesta posizione Tra Amicef E Sniper Samu Che sarà molto interessante Anche andare A vedere Perché Sniper Sta ovviamente Andando Molto più veloce Dei primi due E Le ha ripresi E stanno battagliando Tra di loro E adesso Bisogna da vedere Perché sia Amicef Che F Hanno le gomme Quasi finite Amicef L'ha finite F C'è ancora un pochitino Così come il DRS Che ne approfitta E si mette davanti Amicef Però vediamo se risponde Vediamo se risponde Vediamo se risponde Sul fine del rettiline Nulla da fare Al saltiere Stacca fortissimo E adesso vediamo Se arriva Samu Samu che adesso Ha una gomma hard Di 11 giri Ha una gomma Decisamente Molto più forte Rispetto a tutti gli altri Mamma mia Che ci ha provato Un tuffo Forse qua all'interno Però poi Alla chiaccia La devi cercare Di girarla di più All'interno Quindi cercare Forse di farla Più tonda possibile Adesso vediamo È una bella battaglia Adesso In questi ultimi 10 giri Che saranno Bello rinfocati Mentre là davanti Ancora Un tira e molla Di Kaisermatt Che continua A stare sul 4-3-4-4 Poi Riguadagna Vampyr Nell'ultimo settore Attenzione qui sul dritto Attenzione qua Con Samu Che ancora si fa vedere Nei confronti di Emis Mentre F Se ne ha dato via Scappa via La Williams Di Fabio Scarpato Con Emis Che adesso È in Seria difficoltà Con questa Gommard Di 27 giri Ne deve fare Ancora 10 Eh ma È la stessa cosa Che devono Fa pure Vampyr e Kaiser Eh sì è vero Però loro diciamo C'hanno Pista libera Emis invece C'ha un po' di Di Diciamo Di pressione Vediamo se Stiamo adesso Andrà all'attacco Di Emis Sul dritto Col DRS E vediamo Se riuscirà A raggiungere Anche F Colana Mobile Emis Che comunque Spinge Emis Che comunque Spinge Attenzione Samu Che è dovuto Arrivare in fondo Il rettilineo Per tentare Il sorpasso Forte La staccata Dentro Dentro Samu Si prende La settima Posizione Ma adesso Vediamo se Andrà a prendere Anche F Vediamo se Ne ha Occhio Qui Dove ovviamente Samu ha rischiato Tante volte Di girarsi Fortunatamente Non è successo E adesso Vediamo se Avrà l'opportunità Di prendere Anche F Un secondo e mezzo Nei confronti Del pilota Williams Con Adesso Vampyr Che si è Un po' staccato Di più Rispetto agli ultimi giri Adesso 4 e 4 4 e 5 C'è sempre Diciamo Quel piccolo Decimo Di vantaggio Che dà Forse Un secondo E a seconda Del punto Della pista In realtà Perché Ma in alcuni punti Va più forte Vampyr In altri Va più forte Kaiser E poi Alla fine Del giro Si Assomigliano Ad esempio L'ultima curva Per esempio Vampyr Lo vedo sempre Più in difficoltà Di questa Quindi 37.1 Per 36.8 Quindi in questo caso Ho guadagnato 3 decimi Tutti Soprattutto All'ultima curva Infatti 4 e 2 Adesso Attenzione E Aia Ancora Posteriore Ballerino Dei confronti Di Vampyr 4 secondi Possiamo Pensare Che siamo Arrivati A Un punto Catardico 33 Per Lui Gli anni Di Cristo Allora Kaisermatt Riuscirà A ricucire Il distacco Samu Intanto Va all'attacco Di Emis Si porta davanti Anzi Emis Ha provato Un attacco Nei confronti Di Samu Si è rimesso davanti Infatti Perché Samu Ha perso Tantissimo Nei confronti Di F E non riesce A ricucire Il distacco Nei confronti Del pilota Williams 36 7 Per Ricci Vizio Che ha dato Un po' Fondo Visto All'energia Per il 36 2 Di Long Che Ha guadagnato Ancora qualcosa Ma 9 Seconde Difficile Che adesso Li va a recuperare Soprattutto Perché la Gomma Tra Poco Comincerà Veramente A far Fatica Come Però Anche Quella In Ricci Perché Siamo A 23 3 9 Era 3 9 Eccoli Lì 3 9 4 Secondi Attenzione Perché Può Succedere Kaiser Ma Deve Accorciare Accorciare Eh ma Non è facile Eh lo so 36 8 Contro Il 36 4 Mamma Mia E 6 Giri Al Termine 3 8 Signori E Ricordiamo Che se Le arriva Sotto Di 3 Secondi Vince Kaiser Matt Eh Però Bisogna Anche Capire Un po' Il livello Di batteria Se Magari Vampire Ti sta Tenendo Qualcosa Se Kaiser Invece Qualcosa La sta Utilizzando Dal Volanti Sembrerebbe Sì Che Vampire La sta Gestendo E che Kaiser Matt Ce l'ha Un filino Meno In realtà È Un Tire Mola Anche Con La Batteria A lungo Kaiser Matt Qui Lunghissimo Errore Che costa Errore Che costa Costano decimi Importanti Adesso Ritorna 4 3 Errore Clamoroso Di Matteo Geraci E quindi Fa riposare Fa respirare Ancora Di più La Ferrari Di Vampir E Allora Mancano 6 Giri Al Termine E siamo Qua Ovviamente Con L'homboard Di Kaiser Matt Che vediamo Anche Su Erse Sul 40% Vedono La batteria La percentuale Del volante Mentre Long 3 Secondi Long 3 Secondi Peccato Però Stava gestendo Bene Questa Gomma Media Perché Ha girato Ancora In 36 2 E Sta Trovando Un Buon Ritmo Con Questa Gomma Media Infatti Sta Recuperando Abbastanza Bene Con Furti Richitizio Non Non sarà abbastanza Ma Ottimo Finale Di Stute Perché Il pilota Oggi Porta Colore Da Williams Richitizio Intanto Ha fatto Una tirata Un 36 7 Che è Stato Suo Mio Giro E Poi Ha girato Il 37 7 Però È Una Costanza Di Rendimento Della Sola Molto Molto Diciamo Normale Sta Andando Pari Passo Con Diciamo La Decadenza Della Gomma E Il Caso Di Benzino Secondi Di Nuovo Qua Nel Primo Settore Dove Di Solito Vampire Quello Che Da Un Po Uno Strappo Rispetto A Kaisermat 4 1 Di Nuovo Vediamo Se Diventeranno 4 2 Perché Poi Nell'ultimo Settore Kaisermat Riprende Tutto Quello Che Ha Perso Nel Primo Settore Rispetto A Vampire Attenzione Altra Bandiera Gialla Luni Peccato Occhio A Samu Finalmente F Andiamo a Rivedere Inquadrare I due Che Sono Ormai No Non Ci Posso Credere Non Ci Posso Credere Incredibile Allora Questo Aiuta Tantissimo Vampire Che Prende Finalmente Un Grande Grande Sospiro Riesce A Stare Ancora Molto Più Tranquillo Nei Confronti Di Kaiser Matte Torniamo L'attimo Diciamo Che La Rota Davanti E' Finita E' Qua Dietro Che Adesso Ci C'era La Battaglia Con Fabio E Con F Che Ha Finito Samu 3 Secondi Ancora Mamma Mia Le Ho Persi I Conti Quanti Rappresi 15 Mi Sembra O Di Più 15 15 15 Attenzione Ad F Adesso Non ha più Gomma Attenzione Perché Adesso Non ha più Gomma E avrà Il DRS Samu Vediamo Se andrà A superare Il pilota Williams E prende Tutta Tutta La Scia Spalanca Lala Utilita Tutti i Motori Della Sua Vettura Poi Arriba In fondo Alla retinino Ma decine Di non Attaccare Probabilmente Non si sentiva Sicuro Dell'attacco Voglio Aspettare Un altro Po Altra bandiera Già Nel terzo Settore Ezio Ezio Ancora In grande Difficoltà E vediamo Un po' Adesso Che succederà Tra questi Due L'Uni No Se si ritira L'Uni In realtà Infatti Come sto vedendo Ufa F F In difficoltà Quindi Credo Che la Rota È molto Molto Impro In realtà Per quanto Riguardo Perché La media Adesso È veramente Andata in Crisi Quella Di F Siamo Stav aspettando Il momento Giusto Oppure Si sia Messo Di Dietro Detto Aspetto L'ultimo Giro E Non serve Non serve Perché F Fa Un errore Clamoroso E Per La Posteriori È Assolutamente Assolutissimamente Adesso Però Attenzione Vediamo Se Riuscirà Però Utilizzare Dalla Mobile La Mobile Penso Di Sì Ma O Traziona Bene Ma Non Credo Che Le Seconde Medie Riusciranno A Avere Quella Grossissima Trazione Deve Cercare È L'unico Modo Che Può Fare Sentare L'attacco Qua Spessare Subito Il Ritmo Ha Ha Fatto Benissimo Il Tornante Quindi Teoricamente Ce Entro Sicuramente All'attacco Samu Prova A Chiudere E Invece No Lascia Spirare L'esterno Vediamo Arrivando In fondo Al rettino Stira Contatto Errore Errore Di Samu Errore Di Samu Ha Voluto Fare Un Qualcosa Di Troppo Troppo Grosso E Infatti Samu La Lenta Su Altri Giochi Magari Lo spazio C'era Ma Qui Ha Calcolato Malissimo E Poi In Un Gioco Dove Gli Spazi Di Frenato Si Sono Notevolmente Ridotti Questo È Stato Un Grossissimo Patatrack Peccato Per F Che Ha Rotto Il Pondo F Perché Non Ha Più Il Posteriore Ma Infatti Samu Purtroppo Deve Andare Purtroppo Perché Samu Si Girato Anche Ma Box Non So S'ha Rotto Il Fondo Ha Completamente Rotto Il Fondo Si Ferma Si Ritira De Sniper Samu Peccato Si Ferma Ma Mancavano Ovviamente Tre Giri Secondo Me Poteva Anche Chiuderla La Gara Ma Il Fondo Scusami L'ha Rotto F Sniper Samu Evidentemente Probabilmente La Tamponata Niente Non Ha Voluto Per Continuare Beh Diciamo Che Anche F si Ritira Ovviamente Peccato Perché Stavano Facendo Comunque Una Bella Gara E La Stavano Chiudendo Anche Nel Migliore Dei Modi Comunque Diciamo Che Ci siamo Fatti Un'idea Su Questa Su Questa Gara Ma Soprattutto Su Queste Preseason Caro Iacomo Che Ormai Siamo Alle Conclusioni Finali Diciamo Secondo Te Come Sarà Questa Stagione Sia Per La Master Sia Per La Pro Rig Ti Faccio Questa Domanda Potrebbe Essere Due Stagioni Molto Molto Equilibrate Se Visto Come Stare In Scia Ti Permette Di Poter Rimanere Attaccato Quello Davanti E Di Poter Stare Con Tranquillità Con Quello Davanti Le Strategie Sicuramente Avranno Un ruolo Determinante E Poi Dipenderà Da Pista Pista Perché Come Abbiamo Visto Ad Spalancare A Strategie Completamente Diverse Come Poi Sono Stato Perché Abbiamo Visto Due Soste Contro Una Sosta E Anche Sulle Strategie Delle Gomme No Nel Senso Poteva Essere Fatti Delle Scelte Leggermente Diverse Quindi La Strategia Sarà Fondamentale Perché Poi Se Si Crea Il Buco Si Possono Vedere I Vedi Di I Piloti Altrimenti Potremmo Vedere Dei Spunti Fratrici Fino All'ultimo Giro Quindi Prevedo Due Categorie Molto Molto Vicine Tra di Loro Nella Quale Possono Eserci Almeno 3 4 5 Piloti Addirittura A gara Che Si Possono Contendere La Vittoria Eh Si Sarà Veramente Interessante Questa Stagione Vediamo Anche Perché Diciamo Che Abbiamo Visto Una Categoria Cioè Abbiamo Visto Questa Sera Dei Piloti Che Comunque Sia Di Master Che Di Pro League Vedremo Sicuramente Dei Piloti Molto Interessanti In Questa Stagione Su Entrambe Le Categorie Uno Che Diciamo Posso Anche Citare È Buon Enrici Bizzo Che Questa Sera Ha Fatto Sì 41 Secondi Di Stacco Dei Primi Due Però Ha Fatto Veramente Una Grande Gara E Sarà Interessante Vederlo Quest' Anno Se potrà Ovviamente Giocarsi Il Titolo Di L'Equipa Che Comunque Quest'ultimo Stint Con Gomma Media L'ha Fatto Veramente Bene Nonostante Comunque La Gomma Media Sta Subendo Un Calo Abbastanza Importante Comunque La Sta Tirando Su Molto Molto Bene C'è Anche Da Dire Che C'è Una Differenza Abissale Di Batteria Tra I Due Perché Per esempio Rikki È Completamente Pieno Quindi In Fasi Completa Di Gestione Ma Occhio Perché Perché Comunque Long ha Dimostrato Un'ottima Gestione Con La Gomma Gialla E Di Gestione Di Gomme Sarà Molto Molto Importante Anche Per Il Resto Della Stagione Quindi Diciamo Che Imparare A Capire Bene La Gomma Avrà Un Ruolo Secondo Me Molto Molto Importante Quasi Fondamentale Su Questo Gio E Allora Quindi Vedremo Come Sarà Quest'anno Questa Stagione E Vedremo Ovviamente Cosa Ci riserverà Le due Categorie Delle al 100% Poi Vedremo Ovviamente Al 50% Anche Per quanto Riguarda La Sport League Però Noi Ovviamente Dobbiamo Concentrarci Di più In questo Momento Su Questi Piloti Che Hanno Affrontato Per L'ultima Volta Questa Questo GP Questa Preseason 2024 2025 Che Ci hanno Fatto Comunque Divertire E Penso Proprio Che ci faremmo Divertire Anche In Campionato In Tutte E Le Categorie E Così Penso Che ci farà Divertire Anche Questo Pilota Vampir Che sta Per Arrivare Sol Bandiera Scacchi Le Ultime Curve Guardiamo Anche Dalla Grafica Del Gioco L'usura Delle Gomme 31% Anzi Il 43% La posteriore Sinistra Di Vampir E La Peggiore Il 37% Invece Di Di Kaisermatt Considerando Che Kaisermatt Si addirittura Girato Ricordiamolo E Allora Ultime Curve Per Vampir Che va Adesso Ad affrontare L'ultima Curva E va A prendersi La bandiera Scacchi Di questo Ultimo Gran Premio Di Austin Diego De Gaspari Vince Questo Gran Premio Di Texas In Questa Preseason Arriva Poi Dietro Kaisermatt Che Va A zigzagare Prendersi Anche La Seconda Posizione E Dietro Aspettiamo L'arrivo Di Ricky Bizzo Che ci vorrà Un bel po' Per arrivare Al Traguardo Però Comunque Ha fatto Comunque Una Ottima Gara Un'ottima Prestazione Si si Ottima Performance E Assolutamente Da Diciamo Monitorare Da Controllare Più che Altro La Sua Stagione Come Sarà Perché Sarà Veramente Interessante Non Solo La Sua Ma Anche Di Altri Molti Piloti Che vedremo In azione Quest'anno Arriva Adesso La Sua Ass E Andrà A Prendersi Il Podio A Chiudere Il Podio Di Questa Ultima Gara Di Preseason Poi Arriverà Dietro Long Che Ha Stagione Che Inizierà A Breve Sì Sì Molto Molto Bene Anche Long Soprattutto Con La Goma Media Ha Fatto Un'ottima Gestione Nell'ultima Parte Di Gara Un po Devo Dire Sotto Tolo Ancora Lopensky Molto Al di Sotto Delle Aspettative Deve Migliorare Parecchio C'è Margine C'è Tempo Ancora Deve Iniziare La Stagione Però Ci Si Aspetta Per Quanto Riguarda La Stagione Che Sta Per Cominciare E Ormai Siamo Arrivati Alla Fine Di Questa Preseason Quindi Tra Poche Settimane Inizieranno I Campionati Si Sveleranno Un po Le carte Quindi Sarà Molto Interessante Capire Esattamente Come Sono Messo Tutti Eh Sì Assolutamente Vedremo I Campionati Che Inizieranno A Breve E Quindi Niente Possiamo Anche Chiudere Qui Questa Nostra Telecronaca Questa Nostra Appuntamento Che Riprenderanno Ufficialmente Penso Tra Due Settimane Con i Nostri Campionati Adesso Stanno Andando a Occhio Ma Penso Tra Due Settimane Perché Ovviamente Stiamo Arrivando A fine A fine Ottobre E Poi Inizieremo Ovviamente I nostri Campionati Ricordiamo Quest'anno Solo Tre Categorie Sport Pro E Master Sarà Veramente Un anno Stagione Fuoco E Fiamme Come Lo è Sempre Stata E Siamo Niente Quindi Siamo I saluti Io Direi di Ringraziare Il buone Jacopo Rocchita Che è Rimasto Con me Ciao Jacopo Grazie Ciao Simone E Grazie a Tutti Quelli Che ci hanno Seguito E Ringraziamo Anche Il buon Marco Lucconi Che è Rimasto Anche Con Molto Presto Con I Nostri Campionati Fit Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti